La pace si costruisce con gesti concreti. Sono le parole di Monsignor Ricchiuti, arcivescovo di Altamura, Gravina di Puglia, Acquaviva delle Fonti e presidente del movimento Pax Christi, che a nostri microfoni racconta l'esperienza vissuta in Ucraina, paese raggiunto come viandante di pace, dice il servizio. Ha negli occhi il ricordo delle case distrutte, nelle orecchie il silenzio di chi lo ha accolto come un fratello, aprendogli le braccia. Monsignor Giovanni Ricchiuti, arcivescovo di Altamura, Gravina di Puglia, Acquaviva delle Fonti e presidente del movimento Pax Christi, ha ancora vivo il ricordo della carovana della pace che ha raggiunto le città ucraine di Odessa e Micolai, segnate dalla guerra, ma che si sforzano di andare avanti. 50 volontari e 10 pulmini, zeppi di farmaci e beni di prima necessità sono i numeri della carovana della rete Stop the War Now, organizzata dalla comunità Papa Giovanni XXIII. Le bandiere della pace, il sogno di rendere mute le armi attraverso gesti concreti. Questo discorso di andare, stare, dire e abbracciarsi, perché abbiamo ricevuto anche questi abbracci noi, li abbiamo dati e ricevuti questi abbracci, ma questo deve essere il cammino dell'umanità, verso una fraternità. Non ci siamo considerati degli eroi, no, né inviati di guerra. Noi siamo stati soltanto dei viandanti e inviati di pace. A colpire l'arcivescovo non solo gli strighi delle sirene e il fragore delle bombe, ma anche la distruzione che ha colpito le scuole, simbolo del futuro. E poi i giovani imbracciare le armi. I giovani che forse desideravano in Russia come in Ucraina e sentono di essere contrari a questa guerra, secondo me probabilmente non parlano. Probabilmente non parlano. Forse sono costretti a farlo. Probabilmente entra anche in loro un discorso della resistenza, della patria. Sono tanti, no. Io non giudico, no. Non voglio giudicare. Però vedere un ragazzo di 18 anni, o ragazzi di 18 anni, giovanissimi, imbracciare quel mitra, mi ha fatto male. Insieme alla spedizione pacifista è stata avviata una raccolta fondi per donare il dissalatore a Micolaive, dove l'acqua non è più potabile. I giorni trascorsi, a pochi chilometri dal fronte, non spengono la speranza di pace nel cuore di Monsignor Ricchiuti. Non ho perso la speranza di pace, perché so che nel cuore dell'umanità, di noi creatori umane, è la pace il desiderio più grande. E quindi bisognerà forse attraversare davvero strade difficili, ma io spero che alla fine ci sia pace.